Buongiorno Orchidea di Murosoro, Orchidea di Medicina per l'Anima. Vi ricordo sempre il nuovo libro Orchidea e storia e personaggi, terza edizione, 369 pagine di orchidee, a tre grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io. Lo potete comprare o qui l'orchideria, costa 20 euro, oppure su Amazon.it. Allora, la pianta di questo video è il Bulbofilum Grandiflorum, vedete questo qui che fa questi fiori molto particolari. Lo chiamo l'orchidea cobra perché vagamente, insomma, con un po' di fantasia, può sembrare un cobra. Ecco, c'è da dire una cosa, che tutte le orchidee, ma proprio tutte, 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 hanno tre sepali e tre petali, tutte. Allora, questa è un H3, ha tre sepali che sono quelli dietro, uno, due, tre, tre petali, sono uno, due e il labello che fa tre. Per esempio, questo è un zicopetero, ha tre sepali che sono il sepalo dorsale, i due sepali laterali, i petali uno, due e il labello che è il terzo petalo. Non so, questo è il Dendrobium Lutinblanc, ha i tre sepali che sono il sepalo dorsale e due dietro, i tre petali, uno, due e il labello che fa tre. Invece, nel Bulbofilum Grandiflorum e certe orchidee, sembra che ci siano solo i tre sepali. Per esempio, nelle Mastevali, anche. Invece, c'è il labello, i petali sono qua dietro, piccolini, piccolini, i petali quasi non si vedono. Il labello questo qui, vedete, che è immobile, come in tutti i Bulbofilum, il labello immobile. È una pianta molto particolare, viene nelle zone molto calde del sudestasiatico, fiorisce sempre in notturno e fa tanti fiori, appunto, in questa epoca qua, ed è una pianta molto curiosa, molto particolare. È una pianta da caldo, va bene con le falenopsis, caldo d'inverno, ombro d'estate, bagnata quando è asciutta, ed è una pianta anche molto bella, ha queste foglie molto belle, molto eleganti, e poi il fiore è un fiore molto particolare. Ecco, oggi voglio parlare di una cosa che ieri sera, stanotte, io girando su Facebook, su YouTube, ho trovato, no, su Facebook, non mi ricordo, su Facebook, ho trovato un post, non so chi l'ha postato, insomma, io l'ho copiato, ho fatto condividi, che diceva, adesso Conti ha fatto questo decreto ministeriale, che vuole chiudere un po' di cose, chiudere i studenti alle 18, ha chiuso quasi tutta Europa queste cose qua, e diceva a tutti che si lamentano qui, che, oh ragazzi, ma questa qui, cioè potremmo anche fare come voleva fare Johnson in Inghilterra, o come voleva fare Trump in America, lasciamo morire chi deve morire, no, è una specie di selezione naturale, come dice la teoria dell'evoluzione di Darwin, facciamo che sopravvive il più forte, quello che non sarà contagiato da Vince, può morire un terzo della popolazione, lasciamo andare tutto come viene, buonanotte, oh, ma c'è, cos'è che possiamo fare, no? Cioè, mettetevi in mente, c'è un governo, cos'è che può fare? O fa questa roba qui, lasciamo andare come va, chi muore muore, buonanotte, oppure si cerca di cercare di correre il riparo, di cercare di... oh, è chiaro che in Italia poi il governo, anche nell'altra pandemia, ha fatto qualcosa per rimborsare tutti questi qua che ci hanno perso un sacco di soldi, tutte le partite IVA, quelli che hanno gli alberghi, ristoranti, gli alberghi che non potevano lavorare. In Svizzera ha fatto molto di più, ma in Svizzera non sono acconciati come in Italia, eh, come finanziariamente, però in Italia abbiamo avuto una classe politica che ci ha portato a queste condizioni qua, economicamente, ma questa classe politica l'hanno votata gli italiani, eh, per cui imparate a votare prima di tutto. E poi quando siamo in questa situazione qua, no? Qui casi sono due. O facciamo qualcosa per controllare il virus, no? Oppure lasciamo andare come viene. Possiamo fare così che sarebbe anche una cosa per risanare un po' il deficit, eh, perché se facciamo così muore un sacco di gente, soprattutto i vecchietti, eh, risaniamo il problema delle pensioni. Potrebbe essere anche un'idea per risanare i conti pubblici italiani, perché se veramente muoiono tutti i vecchietti, cazzo, quelli della Lipsch, dicono che bello, abbiamo risanato l'Ipsch senza fare tanti problemi. Chiaramente qualcosa bisogna fare. In Italia non siamo la Svizzera, io sono qui che sono vicino alla Svizzera, ma Svizzera è tutto un altro ambiente. Quando passate confine vi ricondete conto che siete in un altro ambiente, eh, non ci sono i furbetti come in Italia, eh, perché là i furbetti li mettono in galera, qui invece i furbetti li leggono il governo, eh, dai. Vabbè, era uno sfogo così, eh, nel prossimo video parliamo di orchidee, ok?